Però abbastanza distante, spero non serva troppo distante, ok, qui non dovrei più chancarli, quindi dovrebbe essere despaunato, vero amico mio? Bravo, non lo vedo più. E vabbè, mi mancano sempre i denti sopra, comunque volevo un attimo provare a capire le dimensioni effettivamente della bocca. E questa è la lingua, quindi poi la parte sopra dovrebbe andare a chiudersi verso sopra, quindi in realtà io tutta questa parte qua la devo, appunto, mi sono incastrato, coprire con l'handstone. Però c'è anche il collo che arriva, che dovrebbe essere più o meno, fatemi andare di sopra, vabbè, non sono capace di salire, mangiamo una carotina. Hola, buona buona. Allora, dicevo, questo qua dovrebbe essere il collo che arriva, no? Quindi qui avremo il portalone e qua il collo che esce, questo qua dovrebbe essere le scaglie che ha sul dorso, che devo trovare un materiale. Tra l'altro, siccome non avevo un blocco roso, ho detto, mmm, c'è il granito, dato che hanno formato un sacco con i villager, perché non usarlo? Quindi se questo è il collo e siccome dobbiamo fare il cerchio, no? Dopo che arriva, più o meno arriva qui, quindi vuol dire che questa parte poi si chiuderà automaticamente, diciamo. Quindi basta portare giù la lana, più o meno, a chiudere. E forse un pochettino di handstone qui, ma non penso, non penso mi servirà. Adesso devo giusto chiudere la lana, con la lana, magari facendo un po' di giochetti, tipo, cioè vado su, poi esco un attimo e tento di chiudere un pochettino i buchi, tipo, molto semplicemente così. Poi qua si esce, vediamo, vediamo un po' cosa esce, spero non un obrobrio, sarò sincero. Però vabbè, al massimo basta aggiungere qualche blocco qua e là, no. Oddio, oddio, in realtà, no, 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 chiudiamolo così. E, beh, di qua in realtà è lo stesso, perché la testa finisce qua, quindi qui arriva il, come si chiama, il, il collo, sì, il collo, il cosiddetto collo. Quindi dovrebbe fare una cosa del genere, più o meno. Quindi qui in realtà noi possiamo anche chiudere completamente. Oddio, ciao zombie, che ci fai qua? No, non sei benvenuto. What? Vabbè, è sotto. Facciamo fine, di sicuro questa va coperta, quindi uno strato qui sopra, o meglio, davanti ce lo devo far passare, senza ombra di dubbio, perché, certo, il mio dragone non se ne andrà in giro con la bocca aperta. Adesso andiamo anche di sotto a chiuderlo. E, boh, possiamo fare anche una cosa così, dovrebbe bastare a chiudere. Adesso andiamo a vedere nella parte lì della montagna, che ormai è diventata la mia migliore amica. Come è venuta la chiusura. Tempo di posizionare gli ultimi due o tre blocchettini a chiudere. Oddio, qua forse è meglio. E dai. Fare una cosa così. Un po' a scaletta. Andiamo a chiudere qui. Forse toglierei questo, che non serve. Ok, beh, qui poi, quando finisco il collo, devo amalgamare meglio, però dovrebbe workare, più o meno, forse. Fatemi chiudere anche questo. Niente, l'ho mancato. Allora, salvo quei quattro blocchi che si vedono. Devo levare qui due pezzettini, che non mi servono. E dobbiamo chiudere meglio quella roba là. Però non sembra malvagia da qui. Almeno. Adesso proviamo a vederla anche da altre angolazioni, tipo il dietro, che è il punto che mi interessa di più. Adesso non so perché ho usato un razzetto. Sono volato, tipo. E questa sembra anche ok. Cioè, contando che comunque qua ci va il corpo. Non sembra malvagio. Proviamo ad andare a vederlo dall'altra parte. Anche se non ho un appiglio. Beh, oddio, abbiamo il cactus. Usiamo il cactus. L'abbiamo buildato per qualcosa, no? Beh, non sembra male. Non sembra male. Sempre quei blocchi si vedono, però non sembra brutto. Forse lì ci va un po' di spessore in più e devo levare il blocco di terra. Sì, lì ci aggiungo un po' di spessore e non capisco quell'effetto lì che vedo, tipo della mandibola, che sembra strascavato. Però non capisco se ho dimenticato qualche blocco oppure... No, la mia spada, grazie. Oppure no. E dietro ho un po' piatto. Lì c'è un orecchio che è iniziato, quindi fa un po' di... Sì, sembra veramente storto. Però dai lati non sembra male, che è quello che mi interessa in realtà. E forse si va aggiunto qualche blocco lì in mezzo. E forse qui un po' più a scavare. Però come sento che manca l'orecchio di là, non è brutto. Adesso vado a levare qui due blocchetti e ci siamo. What? Ma che è successo? Dov'è che stava il blocchetto di terra? Più o meno qui, no? Eccolo qua, il magnifico. Colpevole. Dovrei levare anche la terra sotto, però vabbè. Non si sa mai che potrebbe servirmi. Vorrei mettere anche tipo l'endstone, però non ho le impalcature, quindi devo... Sì, devo andare a prendermeli a casa senza spaccarmi le gambine. Comunque io ho qualche dubbio su come funzionino ancora, perché ogni volta faccio ste cose che non è ciò che voglio fare. Così salgo. Ok. Però c'è tipo per adesso farle così. Però così me le mette. Ok. Io faccio così, ho finalmente un po' di utilità. in queste impalcature. Non posso farla che va in là, no? Perché sono già fuori ed è troppo... Non lo so, ragazzi. Io ste cose non le ho mai usate. E... Un po' complicato per me. Non ho la mia idea di come funzionino. Ah, qui mi serve un po' di spessore, ma più che... Cioè sì, qui sotto in realtà. Ah, così. Qua proviamo a fare così. Mettiamo un blocchettino anche qua. E... Dovrei provare a salire. Se il gioco me lo permette. Ok. Io voglio salire. Se voglio salire... Non posso salire? No, posso salire solo qua. Ok, va bene. Vediamo ora com'è. Magari prima vado a dormire e attivo anche le shaders, così vediamo. Mi sono incastrato tra due pezzi di bambù. Imbarazzante. C'è da dirlo. Allora, le shader attivate. Pronti a girarci. Bam! Non si vede un tubo. No, vabbè, dai. Allora, la mandibola e la testa sono ok. Almeno da questo lato sembrano ok. Adesso che ho anche l'altro corno ho un impatto molto migliore. Se vediamolo da davanti... No, devo andare ancora un attimino più distante. Ok. La bocca! Ci siamo, dai. Devo solo giusto cambiare lì in rosa. Ah, giusto qua manca della lana. È vero, l'avevo notato anche l'altra volta. Che ho fatto il giro di qua. Mancano esattamente due blocchettini. Oh no, uno zombie. No. Niente, riproviamoci. Tentativo. Numero due. Proviamo a spinnarci in up. No, 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 no. Che ho combinato. Fermi, fermi. Ok, aspettiamo che arrivi l'acqua e saliamo. Ciao, zombie. Ok, però ho bisogno di andare un po' più verso il centro. Cambio. Ok. Dovremmo esserci. Non so più dov'è la fonte, però dovremmo esserci. Vediamo adesso la punta del dragone. No. Aspettate un attimo. C'è qualcosa che non mi torna. Oh, ok. No, sta roba qua no. Ma chi è? Dovevo chiuderla davanti? Mi sa. Pure. Aspettate, aspettate. Aspettate. Allora, questo è il buco. Ora lo chiudo qua, però sembra... No, vabbè. Non sembra. Sembra ok. Forse... Forse così, dai. Vediamo adesso com'è. Boh, sembra... Sembra ok. Vabbè, a parte l'acqua. C'è quel cubettino lì di troppo, effettivamente, che penso di averlo messo io prima, per sbaglio. Quindi lo andremo a levare. Non serve a niente. Si levi, per favore. Ok, buono. Adesso è tutto in regola con la testa. Giusto? Giusto. Perfetto. Ora saliamo sopra l'albero qui. E vediamo da questo lato. Sì, dai. Non male. Non male, non male. Vi dirò di più. Questa sarà anche la fantastica copertina da adesso. E poi manca l'ultimo, che sarà questo lato qua. E poi andiamo a vederlo da sotto. Boh, non sembra brutto. Anzi, vi dirò. Ci sta. A parte le impalcature lì, eccetera, e la terra da levare, però... Non sembra male. Forse manca qualcosina in questo punto qua. C'è da dire che è buio, perché è buio. E questo corno è molto più grosso, ma questo lo sto ancora finendo. Cioè, mi manca tutta la parte sotto ancora e ingrossarlo qua in cima. E... Però sicuramente meglio. Poi, vabbè, c'è sempre quell'orecchio lì. Quindi, cioè, tagliando questa parte, più o meno la testa, ovvero la bocca, che poi si gira. E questo più o meno è un cerchio. Dovremmo esserci. Proviamo a guardarlo dal cactus. E... Vediamo subito. Oddio, stavo cadendo. E... Vabbè, però... C'è adesso la nebbia, mi siamo un po' esagerato. Che schifo. Perché c'è la nebbia? Dai, ci siamo. Forse proviamo da sopra il funghettino qua. Se riesco a salire... Ok. Beh, dai, decisamente meglio, eh. Cioè, adesso... I blocchi che ho aggiunto forse qui è ancora un po' piatto. Magari va fatto tanto scalino. Però... Ci siamo. Ci siamo. Adesso vado a levare le impalcature. E tanto, ho creato un casino queste impalcature. Ma che è? Che schifezza. Via. Oh, guardate che belle. Via tutte quante. Ora mancherebbe solo appunto levare la magnifica terra. Ma per ora la lasceremo lì. Perché sono veramente pigro. E comunque potrebbe servirci. Oddio, della lana. Mia, 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 mia. Qua non si lascia assolutamente nulla che tutto costa. Va bene ragazzi. Io vi saluto. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!